ed eccoci di nuovo qui oggi prima via di stagione sia per me che anche per il mitico nick abbiamo scelto di andare a scaldarci ad arco però ovviamente la scelta è stata di farlo nel pomeriggio per essere all'ombra sarà una via sportiva si chiama la cingia rossa 5 stelle sulla guida di arco una via sportiva e andiamo a vedere com'è siamo arrivati alla base della via trovata al primo giro siamo veramente dei campioni il primo tiro dovrebbe essere uno tra i più impegnativi però non sappiamo bene cosa ci aspetterà intanto finiamo la corda e partiamo bene buona via legge uscita dal secondo tiro se puoi anche star basso riesci a star più basso con i piedi tieni le mani lì nella crepa di sotto non è qua ora la lady die grande com'è la sua tiro bello secondo bello secondo la sua pomcia non darò bello sì è che magari mi sono data qua sinistra è una domenica ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.